Esci del Mirage in York, vediamo un poco di prezzi qui da H&M a Times Square. Mi sono anche igienizzato le mani. Cosa troveremmo di buono da H&M? Questo sono io. Qua abbiamo della roba a 5 dollari. Questa qua. 7 dollari Selena Gomez. 6 dollari e 99. Questo vestitino. 8 dollari e 99. 6 dollari e 99. Quanto costerà questo orrendo vestitino? Ecco il prezzo. 19,99. Pantaloni. A soli 14,99. Saliamo al piano di sopra. Il negozio è davvero immenso. Prezzi, dico la verità, anche troppo bassi. Ora vi faccio vedere una cosa che a me piace tantissimo. Quanto è figa questa Fanta. 24,99. Chi non ama la Fanta? Guardate questo maglione. Solo 29 dollari e 99. Kangol. Kangol. Tutti comprano questo Kangol. Cappellino 12,99. Maglia stile Balanziaga Kangol. Vediamo quanto costa. 34,99. E queste dedicate a Justin Bieber. Che vi sembra? 24,99. Scusate, ma che vestito è? 24,99. Anche questo vestito. Questo pantalone strappato. 39,99. Questo uomo di grande fascino. Solo 1.500 dollari. Tutto intero. Dall'alto vediamo anche Times Square. Qua per terra ci sono i caricatori dei cellulari. Ma continuiamo, amiche mie, a fare shopping assieme. Oggi mi sento ispiratissimo. Quanti pantaloni ci sono qua. A solo 9,99 dollari. 9,99 dollari. 9,99 dollari. 9,99 dollari. 9,99 dollari. Pochissimo. Andiamo sopra. Sono sulla scala mobile. Sto salendo al piano maschile. Chiuderemo con il piano maschile. Vi farò vedere anche qualche cosa qui. Qua c'è il reparto bimbi. Anche questo a prezzo conveniente. Guardate queste magliette carine. Solo 4,99 dollari. Uomini in tuta. Maglietta PlayStation 17,99. Questa maglietta 19,99. You make me smile. You make me smile. Vuol dire mi fai ridere o mi fai sorridere. Mi doni il sorriso. Ecco Pio Armenti che cammina. Lo so. È difficile essere Pio Armenti. È difficile. Devi lavorarci. Vi ho dato due consigli. Pantalone 24,99. Bene, bene. Insomma amici. Sono convinto che una camminatina da H&M a Thames Square ve la farete senza alcun dubbio. Perché tutti vogliamo risparmiare e comprare roba di cattiva qualità. E questo è il nostro obiettivo. E da New York vi saluto. Ciao.